Dunque, visto il modo classico, chiamiamolo così, in cui si può andare a creare un dato di tipo vettoriale, vediamo adesso come possiamo andare a sfruttare l'attributes form. L'attributes form è praticamente questa tab che è possibile trovare nelle properties di un singolo vettore, che praticamente apre questa finestra in cui vediamo che l'area è suddivisa in due colonne distinte. Questa colonna qui di sinistra ci elenca tutti quelli che sono i fields, quindi i campi presenti all'interno della nostra fat, della nostra attribute table. Eventuali relation che possono essere attivate e i widgets di cui parleremo a breve. Per ogni tipo di fields sulla destra, nel momento in cui ci andiamo a cliccare, compariranno una serie di opzioni che ci consentono di andare a settare meglio, in base anche al nostro gusto, determinate azioni in fase di editing. Ad esempio, partiamo dal campo feed. Feed è il future ID. È un campo sicuramente importante. E vediamo qui che in constraints, siccome sto lavorando con un geopackage, per come è strutturato un geopackage il feed è praticamente un campo che ovviamente non è nullo e ovviamente non può essere duplicato perché è una feature ID, quindi è un valore univoco, ma appunto viene forzata il fatto di essere un valore unico e quindi un campo non nullo e infatti quando andiamo a creare una nuova geometria, generalmente leggiamo auto-generate nell'area del feed. Ciò non ci eventualmente blocca dal voler andare a inserire un numero noi, quindi assegnare noi un ID, dobbiamo sperare di conoscere quello che è la progressione o comunque non andare a inserire un numero che già sia esistente altrimenti l'edit viene rigettato. Per evitare questo io generalmente evito di tenere editable attivo perché appunto con questo editable significa che il campo future ID è editabile, quindi nel momento in cui mi compare la maschera di salvataggio posso andare a inserire un numero. Io ho spunto editable oppure utilizzo i setup del widget type e cos'è il widget type? Il widget type è un insieme di azioni che possono essere associate al field, al campo, in funzione di quella che è la sua caratteristica. Ad esempio per un field di tipo numerico ci sono questa serie di setup che possono essere inseriti, ad esempio checkbox, si può sfruttare una checkbox per al posto del classico tab che compare, possono essere inseriti dei colori, delle date e via via tutta un'altra serie di setup che ti invito a approfondire andando praticamente nella sezione della manuale di QGIS, relativa proprio all'utter boots form properties, in cui è specificato davvero in maniera molto puntuale tutta una serie di setup che possono essere attivati per poter meglio gestire l'utter boots form e l'editing in generale. Ti lascerò comunque questo link tra le risorse del video. Quindi tornando a quello che stiamo dicendo, in particolare il feed, siccome è meglio non toccarlo mai, io lo considero sempre un campo hidden. Cosa significa? Che nel momento in cui io appunto spunto hidden, cliccando su apply, se attivo una sessione di editing, il campo non mi compare più. disattiviamo la nostra sessione di editing e torniamo nelle proprietà. Quindi abbiamo settato feed per non essere mai visibile in questo modo.